Santo cielo, santo cielo, Cassese, Sabino Cassese non vuole tanto bene a Matteo Salvini. Cosa diceva Sabino Cassese il 13 gennaio 2020? Intanto vi faccio vedere, questo è il mio ultimo romanzo cari, Serafino Massoni, Il marinaio delle Antille. Vedete, da una parte la stella di Davide e dall'altra la croce uncinata. E qua c'è Sabino Cassese, il grande, potente Sabino Cassese. Sentiamo che dice, sentiamo, sentiamo e sentiamo. ...allogante, basta prendere, come dire, una frase di Salvini. Non cerca mai di dimostrare qualcosa, non cerca mai di articolare il suo pensiero. Il suo pensiero è fatto semplicemente di slogan, battuti e ribattuti. E questo è un aspetto. Capito? Capito? Sabino Cassese non vuole tanto bene a Matteo Salvini. Accidenti, 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 accidenti. Allora sapete che cosa si deve fare? Si deve andare in libreria a comprare il romanzo delle Antille. Un romanzo storico ambientato dentro, dentro il Terzo Reich. Ah, nel frattempo, vengo a sapere che l'ipotesi, Mario Draghi al Pirinale sta riprendendo vuota. Va bene, va bene, cari amici. Ok, Matteo Salvini, ok. A Matteo Salvini, a Sabino Cassese, al Fatto Quotidiano e a tutti voi, tanti cari saluti dal marinaio delle Antille.